Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Adesso li vedi? Oh! Sì, Paolo! Oh! Niente! Sì, è tutto mio! Certo! Sì, sì. Sì! Sì, sì! Aspetta, aspetta. 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 è un po' il video, un po' il video un po' il video guarda che è Gioanna grazie grazie dai a fede questa palla c'ho un'idea c'ho un'idea dai 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 dai